ed ecco la cotta profumatissima montiamo il burro con lo zucchero adesso aggiungiamo un uovo alla volta con la scorza di limone aggiungiamo poco per volta le farine se tracciate con la tritata di pistacchi aggiungiamo poco per volta il latte poi ci aggiungiamo un po' di burro di arachidi e 100 grammi di ricotta questo è il composto guardate bello sfumoso e soffice adesso lo mettiamo nello stampo questo lo stampo in silicone adesso vado a metterci qua e là a sentimento sempre il burro di arachidi che a me piace assai in questo modo così un po in qua un po in là così e finiamo con un po di granella di pistacchio sopra così adesso in forno in forno mio super forno ciao 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 Grazie a tutti.